I fenomeni estremi del maltempo degli ultimi anni chiedono un'attenzione sempre maggiore per il nostro territorio estremamente fragile dal punto di vista idrogeologico. Il consigliere comunale del patto per Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore, invita con un'interpellanza l'amministrazione comunale del capoluogo a vigilare su tre punti delicati della zona di Cusighe San Liberale. Il comune è responsabile della sicurezza delle case, delle cose, dei propri cittadini, quindi deve mese per mese essere in contatto con i servizi forestali e regionali affinché i propri ruscelli dove transitano in mezzo alle case, come si evince in questo caso da questo ruscello, siano più sicuri e ogni volta che ci sono queste bombe d'acqua abbiamo dei ruscelli puliti, così l'acqua trova il proprio percorso naturale senza trovare detriti, come in ultimo mi auguro che sotto il ponticello devono finire di togliere questa ghaia che è da anni e anni che si è accumulata. Questa la situazione in via Santa Chiara interessata dal ruscello dei Rui, ma andiamo in via Pietriboni. Nel 2002 è successa la prima bomba d'acqua, il sottoscritto si è interessato con gli uffici comunali a far mettere a valle una griglia e poi hanno sfaltato la strada perché come possiamo vedere più in basso sono gli unici cittadini di un condominio che ogni volta che vengono queste bombe d'acqua, non avendo più un argine, un alveo, l'acqua non ha più un certo ordine di discesa quindi allaga e fa danni, quindi l'altra bomba d'acqua di quest'anno ha creato ulteriori danni ai stessi cittadini che l'aveva creato nel 2002. Che cosa bisognerebbe fare qui? Qua bisognerebbe di nuovo ridisegnare sia l'argine, ripulire e anche l'alveo che manca. Qua abbiamo visto che c'è una specie di pozzetto che poi scende ancora verso dove l'acqua ha fatto danni. Di qua no perché l'acqua proprio attraverso riempie i prati non essendoci più un argine, un alveo. Per il consigliere pingitore anche la zona interessata dal Rio San Liberale, nonostante i recenti interventi, necessita di particolare attenzione.